Giovedì 8 novembre, benvenuti su CiperTV, il vuo di oggi si chiama Nasty Strong Girls, di cosa stiamo parlando? Di 5 round 4 time dove faremo 25 kettlebell goblet squat, 7 ring muscle up e 10 back ground shoulder, pesi, misure e quant'altro sulla grafica qui di fianco, seguite il resto nelle storie di Instagram, a domani per l'ultima puntata della settimana.